La guardo, siamo sicuramente tanto contenti, ringraziamo tutti voi che siete venuti qua oggi, il sindaco che ha presieduto, con la stampella ma comunque c'è, questo conta, ringraziamo tutti i nostri clienti, tutte le persone che ci sono state vicine dall'inizio, dall'apertura e tutti i clienti che pian pianino in questo percorso si sono avvicinate e abbiamo conosciuto. Come hai detto tu, è stato bello anche perché con le nostre composizioni siamo comunque entrati, ci sentiamo in famiglia con queste persone perché abbiamo seguito i matrimoni, le nascite, le comunioni, le lauree, pian pianino tutto il percorso di una vita e di questo noi non possiamo essere più figliose. Poi ringraziamo tanto le nostre famiglie, la mia famiglia, la famiglia di Mara, i nostri mariti, Santi! Ci supportano, ci supportano, un grazie grandissimo a Mara che è la metà artistica e creativa del negozio, una colonna insostituibile che mi è stata sempre vicina in tante situazioni, anche in situazioni un po' più difficili. Grazie!